ok spero che tu abbia trascorso delle buone vacanze di natale anche se manca ancora qualche giorno che possiamo goderci prima dell'epifania le mie personalmente sono state funestate da un vecchio nemico e si alludo proprio a lei la bilancia infatti ho accumulato tante di quelle calorie nel corso di queste vacanze che ho appena finito di calcolare che dovrei correre per circa 56.300 chilometri per smaltirle tutte e quindi credo che realizzerò i prossimi video direttamente dal brasile ma scherzi a parte veniamo all'argomento del giorno infatti durante queste vacanze ho potuto riabbracciare invece un mio vecchio amico e alludo al c sharp un linguaggio di programmazione molto carino che consente di fare cose interessantissime per sgramchirmi nuovamente le gambe con questo linguaggio di programmazione ho pensato di creare un utility che secondo me può essere davvero utilissima scusa il gioco di parole e che non esisteva prima ci consente infatti di gestire in maniera ottimale il nostro desktop e di far fronte alle nostre difficoltà organizzative e quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito di che cosa si tratta e se ti senti pronto iniziamo ed eccoci sbarcati nel 2025 un anno che auguro a tutti quanti noi che porti tantissime belle soddisfazioni e novità a patto naturalmente che ci comportiamo bene e proprio nell'ottica del comportarci bene non possiamo dimenticare le buone maniere e quindi omaggiare adeguatamente i nostri padroni di casa e alludo proprio a loro sì le divinità del tubo che procederemo senza indugio a placare per mezzo del nostro consueto inimitabile rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va se quello che stai guardando ti sembra una via di mezzo tra un incubo e un quadro di picasso sotto lsd non posso darti torto ma devo avvertirti che la stessa cosa non vale per moltissimi altri utenti e soprattutto per la maggior parte dei miei clienti che ha l'abitudine di comportarsi come degli accumulatori seriali sbattendo la qualunque sul desktop e rendendolo molto più simile ad una tuta di un pilota di formula 1 è proprio in quest'ottica che ho pensato di realizzare un programmino molto semplice ma anche molto completo che ci consente di gestire al meglio situazioni come questa per procurarcelo altro non faremo se riusciamo a trovarlo che aprire il nostro browser e una volta aperto nel motore di ricerca andare a digitare come di consueto gentiluomo digitale ecco fatto effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come di consueto riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it facciamo clic per aprire il nostro sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto in questa sezione qui quella che si chiama downloads una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama clean desk 1.0 by gd ovvero gentiluomo digitale e nel caso in cui non dovessimo riuscire a trovarlo tutto quello che dobbiamo fare è portarci qui in alto su questa lente di ingrandimento cliccarci su e nella barra di ricerca digitare proprio appunto ad esempio clean desk effettuiamo anche in questo caso la nostra ricerca e vedrai che troverai subito il file che stai cercando naturalmente questo vale anche per qualsiasi altro file ti servisse trovare su questo sito facciamo un clic per andarlo a scaricare come vedi è minuscolo sono solo 260k e quello che faremo adesso sarà cliccare su questo pulsante qui per andare ad aprire la cartella dei download che lo contiene e a questo punto potremo finalmente anche chiudere la finestra del browser retrostante ed eccolo qui il nostro file appena scaricato quello che faremo a questo punto sarà un bel clic con il pulsante destro del mouse seguito da un altro clic sulla voce estrai tutto clicchiamo nella finestra che si apre sul pulsante estrai e ci troveremo davanti una nuova cartella contenente per l'appunto i file di installazione del nostro software facciamo doppio clic sul file che si chiama setup.exe ed in pochi secondi si aprirà la finestra di installazione di questa applicazione clicchiamo sul pulsante installa e si aprirà automaticamente il nostro software che come vedi è abbastanza semplice ed intuitivo la cosa più semplice che possiamo fare infatti è un clic su riordina tutto guarda che cosa succede sul nostro desktop nel momento in cui vado a cliccarci ecco fatto riordino completato ma attenzione dove sono finiti tutti quanti i nostri file ebbene devi sapere che se andiamo ad aprire le nostre risorse del computer vedremo che tutti quanti i documenti che erano presenti sul desktop sono stati spostati in documenti tutte quante le immagini all'interno della cartella immagini tutta la musica e tutti quanti gli audio in realtà nella cartella musica tutti quanti i video in video e così via ma che cosa ne è stato invece di tutti quanti gli altri file e di tutte quante le altre cartelle non categorizzate che popolavano il nostro desktop ebbene sono state raccolte qui sotto questa cartella che si chiama varie se infatti andiamo ad aprirla ci troveremo tutti quanti gli altri file che non fanno parte delle categorie precedenti e se il riordino non dovesse piacerci come facciamo è molto semplice ho previsto un pulsante annulla cliccandolo quello che succederà sarà che verranno ripristinati tutti quanti i file alla situazione precedente ma non basta ebbene sì perché ho previsto anche la possibilità di riorganizzare ogni singola categoria quindi cliccando su documenti andremo naturalmente a riordinare solo ed esclusivamente tutti quanti i documenti con immagini le immagini video audio e così via ma soprattutto cliccando su riordina altro andremo a riorganizzare tutti quanti quei file che non fanno parte di alcuna delle categorie precedenti e che verranno spostati come ben sai sotto questa cartella varie se quindi clicchiamo ad esempio solo su riordina altro vedremo scomparire dal nostro computer solo ed esclusivamente queste tipologie di file lo stesso naturalmente se cliccheremo su riordina audio vedremo scomparire tutti quanti gli audio oppure su riordina video e così via come vedi anche i video sono scomparsi e cliccando anche in questo caso sul pulsante annulla avremo la possibilità nuovamente di ripristinare lo status precedente e c'è ancora di più infatti andremo a cliccare qui in alto sulla voce che si chiama configurazione avremo la possibilità di indicare a questo programma dove vorremmo che venga salvata ogni categoria se non ci piacciono quelle di default ad esempio se non vorremmo che tutti quanti gli altri file vengano salvati sul desktop nella cartella varie ci basterà premere su questo pulsantino qui portarci dove vorremmo che vengano salvati questi file ad esempio all'interno di documenti in una nuova cartella che andremo a creare con questo pulsante che chiameremo come ci pare ad esempio pippo pluto paperino ops vabbè ho sbagliato ma fa lo stesso pippo pluio paperino clicchiamo su ok vediamo che il percorso viene cambiato e cliccando su salva ci verrà confermato che la configurazione è stata salvata con successo e a questo punto se faremo clic su riordina altro vedremo che tutti quanti questi file scompariranno e se ci porteremo nella cartella documenti troveremo il nostro pippo pluio paperino che una volta aperto conterrà tutto quanto il contenuto appunto della cartella altro mica male dai fermo dimenticavo due cose la prima è che ti consiglio di fare clic destro sulla iconcina del gentiluomo digitale per aggiungere questo software alla barra delle applicazioni in modo che potrai fare eventualmente anche altri riordini successivi senza stare ad impazzire soprattutto se hai un desktop così malconcio per trovare questo programma e la seconda importantissima cosa è che se ti porterai nel pannello di controllo in installazioni applicazione installazione applicazioni potrai tranquillamente andare a disinstallare questo desk clean con la classica procedura ho finito sono molto contento per due motivi il primo è che questo è un software che abbiamo solo noi della nostra community ed il secondo invece che se ci fosse qualcosa che non va puoi insultare direttamente me scherzi a parte se ci sono delle migliorie che vuoi suggerire oppure se effettivamente ci fossero dei bug che riscontri fammelo tranquillamente sapere nei commenti ma andiamo avanti e arriviamo subitissimo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a francesco montagna giorgio pittarresi e giorgio salvetti che si sono appena abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla nostra community ed è quindi con estremo piacere che vi do il benvenuto a bordo ma attenzione perché patra da 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 ci sono enrico jaci e fabrizio fogagnolo che hanno rinnovato oppure si sono abbonati con il grado se vogliamo chiamarlo così di distinti gentiluomini e quindi cari amici è un vero piacere ed un onore togliermi il cappello farlocco davanti a voi e non basta perché abbiamo dei ringraziamenti anche per maurizio andrenacci francesco lorenzetti luciano noè e mister frank trevis che hanno voluto contribuire a sostenere la nostra community con i loro generosissimi super grazie vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto ed ancora un altro ringraziamento non vogliamo farlo ebbene sì naturalmente quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti augurarti buon anno e darti come di consueto appuntamento alla prossima